Onore caduti! L'eccidio delle fosse ardiatine è stato occasione per far riflettere sull'inutilità della guerra. Ieri pomeriggio a Roma, alla presenza anche del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è svolta la settantottesima commemorazione dei martiri delle fosse ardiatine, al mausoleo edificato il ricordo delle vittime. Presenti anche i Presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati. Davanti ai nostri occhi scorrono immagini di fame, di miseria e di un esodo di massa, spiega il Presidente dell'Associazione Nazionale Famiglie Italiane e Martiri, Francesco Albertelli. Ma abbiamo la certezza che, anche questa volta in fondo a questa emane tragedia, ritornerà alla luce. Un mondo migliore è possibile così come un'Europa in pace. Solo il dialogo, la tolleranza e la pace sono la base per una società libera e giusta. Tre partecipanti, anche Pierluigi Sanna, Vice-Sindaco della città metropolitana di Roma e primo cittadino di Colleferro. Sono trascorsi tanti anni, ma resta il dovere di ricordare cosa è accaduto in quegli anni terribili, dice. Alle fosse ardeatine, aggiunge Sanna, fu compiuta una tra le più grandi stragi sul suolo italiano. La memoria si ha per tutti noi un monito affinché orrori del genere non accadano più. È una ferita ancora aperta ai valori dell'antifascismo, del rispetto della vita e della solidarietà che ci sorreggono in questo periodo, segnato dai gravi scenari di crisi che oggi preoccupano l'intero continente europeo, rafforzano il dovere di rendere omaggio a quei morti innocenti. Fatti così atroci, perpetrati dalla volontà di violenza, continuano a richiamarci ai valori fondamentali della memoria, della pace, della democrazia e della libertà. Il richiamo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla pace e libertà, diritti delle persone e delle comunità sono caposaldi, scindibili e costituiscono traguardi che i cittadini del continente oggi intendono riguadagnare per comporre un nuovo quadro di sicurezza, di cooperazione e di convivenza.